Buongiorno e ben ritrovati amici juventini. Le parole del ministro dello sport fanno riflettere molto perché dichiara sul caso Plus Valenze voglio che ognuno faccia la propria parte e che ci sia trasparenza nel giudicare la Juventus perché onestamente anche il ministro sente puzza di ingiustizia però prima che approfondiamo questo discorso molto importante perché riguarda il futuro giudiziario della Juventus e come sembra amici miei juventini io non vi chiedo il mondo semplice iscrizione gratuita voi sostenete me io sono sempre qui a difendere la Juventus e non a fare complimenti a chi gioca bene degli avversari che non me ne frega niente signori miei lasciato un like se il video è stato di vostro gradimento attivate la campanellina e poi mi raccomando commentate perché il vostro commento la vostra opinione è la più importante che c'è e siete in cede mentre madame messia signore e signori ma i signori quelli veri quelli copi mia coniera della vecchia signora rieccoci qui un giorno sì un giorno stamattina mi sono svegliato arrabbiato stamattina ancora di più credo poco alla giustizia sportiva credo poco a quello che si fa in buona fede perché so che c'è mala fede vi spiego subito perché prima che approfondiamo del ministro Abodi ieri sono stati assolti dall'accusa di fatturazione false il presidente della Lazio Lotito il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis e il signor Galliani attualmente presidente del Monza io non capisco una cosa come mai come mai sapendo tanti imbrogli che ci sono stati guarda caso loro vengono seccamente così subito assolti innocenti a verginelli mentre sulla Juve invece guarda caso ci mettono 3-4 ore a buttarla giù e addirittura a contannarla pesantemente da 9 a 15 punti e ancora ci sono procuratori e vari anti juventini che hanno addirittura paura che la Juve possa essere abbandaggiata vergognatevi di questa situazione il ministro Abodi infatti perché secondo me questa persona che onestamente come dire dopo Calciopoli io non mi fido più di nessuno ma un filo di speranza su questo ministro ce l'ho che le cose vengono fatte eque perché lui ha detto che vuole trasparenza e che ognuno faccia le sue parti nel giudicare la Juventus perché non si deve giudicare di pancia e non si deve giudicare da tifosi quello che io ho percepito dal ministro è proprio questo perché ha visto troppa troppa ma troppa arroganza rabbia e odio sulla Juventus se lui vuole trasparenza lui non vuole che venga contannata la Juve solo perché è scomoda a qualcuno solo perché hanno paura che la Juventus si possa tornare a dominare come la Juve è abituata a fare allora le parole del ministro fanno ben pensare se la guarda in un lato le parole del ministro dico bene il ministro ha detto chiaramente cercate di non sbagliare per dare credibilità a questo calcio che sta fallendo e allora occhio perché lo sappiamo tutti la Juve oggi con il suo ricorso l'abbiamo detto ieri sta puntando fortemente all'annullamento totale della penalizzazione perché questa penalizzazione è ingiusta è ingiustissima e lo sappiamo l'abbiamo già spiegato ieri è un processo che hanno riaperto che non doveva essere riaperto dove non ci sono novità dove non ci sono regole dove non ci sono regole nelle penalizzazioni né niente c'è accanimento e odio verso la Juventus e il ministro da buon ministro dello sport da buon ministro dello stato dice in italia siamo stati sempre famosi per avere un prodotto calcio famosissimo che va bene ma ultimamente dopo specialmente questa come dico nota del redattore dopo calciopoli è fallito guarda caso dopo che hanno abbattuto la Juve poi ci siamo un buon riprese la Juve l'ha riportato di nuovo il calcio italiano nell'olimbo nell'olimbo alto perché la Juve in Europa è tornata alla grande non abbiamo vinto in Europa ma abbiamo fatto due finali abbiamo fatto paura a chiunque una bella squadra ora invece no ora si sono convinti di farci male di nuovo è lì che il ministro interviene dice fermi tutti ma voi volete ammazzare questo calcio cosa assolutamente che non è giusta attaccare una squadra dove non ha reati solo perché fa piacimento a qualche procuratore tifoso qualche io lo chiamo procuratore ultra procuratore che sotto la toga portano la maglia della loro squadra del cuore bene questo è quello che il ministro ha detto chiarezza è che ognuno faccia la sua parte la sua parte nella maniera professionale professionale vuol dire sei un magistrato fatti il magistrato sei un membro del consiglio di garanzia del collegio di garanzia del coni bene fatti quello fatti quello non fare il tifoso perché al di sopra delle parti ci stanno i professionisti al di sotto delle parti ci stanno le persone che hanno odio accanimento contro la juventus e non sta bene porto pagina le parole del ministro possono essere anche come dire percepite in un modo diverso la juve verrà condannata la juve faccia la sua parte fa silenzio perché ha sbagliato e paghi no no caro ministro perché se lei vuole dire questo io non ci sto dopo la soluzione di ieri di de laurentesi lotito e di galliani non penso che loro tre che vengono così seccamente seccamente dico salvati così resi in una maniera plateale innocenti e allora il problema è sempre la juve perché sappiamo tutti che nessuno è vergine e loro non sono né tra i pastorelli né tra i verginelli lo sappiamo tutti gli affari che ci sono attualmente tra l'italia e la frangia con degli acquisti anzi non degli acquisti delle vendite mai avvenute per accalappiarsi il giocatore con la mascherina che sta segnando perciò perciò signori miei perciò signori miei vediamo di stare attente vediamo di giudicare la juventus in una maniera veramente equa io mi voglio fidare del ministro questa volta dai vedo di prendere fiducia di questo ministro che dice chiarezza e che ognuno faccia la sua parte si rivolge a loro si rivolge a loro del collegio di garanzia del coni toglietevi la maglia da tifosi solo la toga da professionisti e giudicate in maniera chiara giudicate in maniera da persone persone intelligenti dove il tifo sta in una parte e la professionalità in un'altra perché oggi la juve lo ripeto deve riavere i 15 punti che si ha conquistato sul campo che ha conquistato sul campo col sudore di giocatori che stanno pagando le pene dell'inferno oggi giocare per un non sicuro il risultato finale non è una bella cosa non è e loro stanno dando il massimo con rimonte impossibili in una mente che passa di tutto ma loro ci sono di questo voglio ringraziare i miei ragazzi voglio ringraziare i miei giocatori non fischiando chi gioca male ma applaudendo per quello che stanno facendo dando anime e corpo in una situazione di guerra calcistica contro la juventus ringrazio da scesni che il portiere fino arrivare all'ultimo giocatore che fa sempre panchina perciò io da juventino penso a questo penso a difendere la mia juve penso a portare avanti la mia idea perché io voglio 15 punti che mi avete tolto perché è giusto così e le parole del ministro che siano legge chiarezza trasparenza e con ognuno faccia la propria parte toglietevi la maglia da tifosi per giudicare la signora del calcio italiano che è la juventus signori miei penso che vi ho già detto la mia idea stamattina perché vi voglio bene perché voi ora vi iscrivete al canale perché voi siete dei juventini puro sangue come me fino alla fine forza juventus io mi ne voglio ossa benedica a tutti ciao